Con queste simpatiche sfere e biglia entriamo nel mondo fantastico delle creme spalmabili L'ingrediente principale? La nocciola Il segreto? Tostatura, qualità e metodo Aggiungiamo anche zucchero, latte in polvere, cacao, bacca di vaniglia ed eventuale lecitina Ottenuta la pre-raffinazione degli ingredienti Tocca a biglia Con questo nuovo sistema riusciamo a rendere impercettibili fibre e zuccheri al palato Ed ecco qui il risultato finale Un prodotto di altissima qualità Una crema spalmabile con una visione contemporanea Grazie alla flessibilità di Robocubo Abbiamo la possibilità di realizzare questo tipo di crema Con svariate texture e un ventaglio di gusti A voi la scelta